Finisce 6 a 2, una partita che vi ha visto andare avanti 3 a 0 grazie alla tua doppietta Siete stati quasi recuperati a fine primo tempo col 3 a 2 loro Nel secondo tempo avete fatto di tutto Altri 3 gol eppure un'espulsione Forse è proprio il rosso l'unico neo di questa partita Sì hai detto bene, è l'unico neo di questo rosso Però la squadra ha dato dimostrazione di quello che è capace Finalmente una vittoria schiacciante E speriamo che giri bene per le prossime partite Insomma io non mi spiego la vostra classifica Vi ho visto due volte, 6 dei 9 punti che avete fatto quest'anno Io li ho visti ed entrambi avete fatti tantissimi gol 13 nelle due volte che vi ho visto Perché la classifica ha solo 9 punti? Un po' di sfortuno Adesso è arrivata forse la volta buona Speriamo di iniziare a vincere come dobbiamo Insomma ti chiedo oggi, doppietta tua, doppietta di martelli Siete stati i singoli fondamentali Siete una squadra piena di buoni giocatori Chi può farvi fare magari il salto di qualità, la continuità Ma noi giochiamo più come squadra che come singolo Poi i singoli ti aiutano a fare quei gol che tengono su la squadra Però la squadra, il gruppo è la nostra forza Ultima domanda, ti chiedo quanti gol vuoi fare quest'anno dopo la doppietta Speriamo di arrivare a 10 Grazie mille, bocca al lupo 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 Grazie mille, bocca al lupo